Buonasera, buonasera e bentrovati al Fatto, la rubrica di approfondimento di Rete8 che questa sera parlerà di birra. Perché? Perché è in programma venerdì e sabato prossimi alla Marina di Pescara la prima edizione del Festival Birre d'Abruzzo, otto birrifici artigianali invitati per questo evento curato dall'Arap in tutti i suoi aspetti, grazie alla Regione Abruzzo e ai produttori invitati a questo evento. Lo faremo parlando con i nostri ospiti che passo subito a presentarvi, Vincenzo Dincecco, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, buonasera Dincecco, grazie per aver accolto il nostro invito, Maria Assunta Iommi, vicepresidente dell'Arap, l'azienda regionale delle attività produttive, buonasera Iommi, e Carlo Paolini, responsabile del Union Birrai Birre Tester Abruzzo e Molise, conosceremo anche questa associazione nel dettaglio, ma partiamo subito dalle cifre, Dincecco. Grazie alla legge regionale numero 5 del 15 marzo 2021, la Regione Abruzzo è inteso sostenere e sviluppare questo settore, ovvero la produzione di birra artigianale, perché? Sì, ma noi abbiamo letto i dati che testimoniano un crescente movimento intorno alla produzione di birra agricola artigianale, abbiamo pensato, a ragion veduta, che l'Abruzzo dovesse mettersi alla pari con tante altre regioni che hanno legiferato in tal senso e quindi abbiamo promosso questo progetto di legge che poi è diventata legge grazie all'approvazione, all'unanimità del Consiglio regionale e nel 2021 abbiamo proposto questa norma per la tutela della valorizzazione delle birra agricole artigianali abruzzesi, perché i dati sono incoraggianti, perché dal 2015 in poi i numeri sia sulla produzione sia sulla nascita dei birrifici testimoniano un aumento di oltre il 100% di presenza di birrifici in Italia, perché i numeri dicono che l'Italia si piazza nei primi posti in Europa, addirittura al sesto posto per la presenza di birrifici, al nono posto per la produzione di birra e perché crediamo sia giusto creare un movimento, attenzionare un movimento intorno a questa attività produttiva che da dati precisi dimostra che ci sono più di 9 mila dipendenti a detti i lavori senza considerare l'indotto e quindi era giusto che la regione Abruzzo normasse o comunque ponesse attenzione rispetto a questa attività molto importante e perciò da questa legge nasce anche l'idea di creare un evento che sia itinerante e che parte da Pescara quest'anno e poi negli altri anni girerà l'Abruzzo. 8 produttori di birre artigianali invitati alla Marina di Pescara presso il padrone Becci, ecco vediamo proprio la locandina dell'evento il 10 ed 11 novembre prossimo, ormai ci siamo e dunque un evento organizzato dicevo in apertura dalla regione Abruzzo che si avvale dell'organizzazione dell'Arap, l'azienda regionale per le attività produttive. Maria Assunta Iomi, vicepresidente, dunque voi avete creduto da subito a questo settore che da lavoro come sottolineava Vincenzo Dincecco a tantissimi giovani anche perché è un settore dove la gran parte sono under 35, quindi è un modo per veicolare, promuovere e far conoscere questo prodotto. Sì, noi siamo stati veramente onorati di essere stati indicati dalla regione Abruzzo e dall'assessorato alle attività produttive e all'agricoltura, quali soggetti attuatori e comunque braccio operativi della regione anche in ordine a questo evento, un evento importante che ovviamente è alla prima edizione, però ha dietro di sé una legge rilevante perché cerca comunque di valorizzare un prodotto, quale è il prodotto delle birre agricole o comunque autoctone della regione Abruzzo ed è la prima edizione. Per noi abbiamo messo, diciamo veramente dato il meglio di noi stessi per organizzare l'evento a Palazzo Beggi e il discorso regionale arriva qui ad Arap dopo un lungo percorso perché come azienda regionale abbiamo curato e valorizzato con un progetto di internazionalizzazione il brand Abruzzo, cioè proprio il marchio Abruzzo sia all'Expo 2020, sempre anche in tema di agri-food, quindi non solo in campo energetico, industriale, ma anche dell'agri-food, per poi passare ad una missione internazionale che abbiamo fatto attraendo gli Emirati Arabi e l'Arabia Saudita qui a Pescara, quindi con un altro progetto, poi di nuovo a Bruxelles dove sempre con l'assessorato abbiamo organizzato degli eventi per poi ovviamente essere onorati di essere indicati anche nell'ambito di questo evento che si terrà a Palazzo Beggi di qui a qualche giorno. Molto bene, ricordiamo l'appuntamento venerdì 10 e sabato 11 novembre al Palabecci del Marina di Pescara, un evento che ha voluto abbracciare diversi campi, non solo bira, ci sarà anche degustazione di alimenti, musica, convegni e masterclass in compagnia di due chef di prestigio, ovvero Anita Iannacci e Federico Ansellotti. Carlo Paolini, la produzione di birra in Italia con oltre 16 milioni di ettolitri ha registrato negli ultimi 20 anni un trend in continua crescita, un mondo che abbraccia soprattutto i giovani, dicevamo proprio under 35, che dà lavoro a moltissima gente, quindi è un settore da valorizzare, sostenere e promuovere. Sicuramente sì, proprio per questi motivi molti molti giovani, sia nella fase iniziale, quindi quella della produzione, ma anche nella fase finale, cioè quella della commercializzazione e del consumo, perché comunque stiamo parlando di una filiera che parte dall'agricoltura e arriva fino al locale in strada, al ristorante e quindi a qualsiasi consumatore, quindi sicuramente sì, da valorizzare in tutto il suo percorso, diciamo sicuramente. Parlava giustamente a ragion veduta di agricoltura, proprio perché per produrre birra c'è bisogno di malto e orzo, quindi un'importanza particolare riveste la filiera brassicola. In Abruzzo, proprio per le caratteristiche del territorio, si è pensato di produrre, incrementare la produzione anche di luppolo nelle zone interne. Le materie prime vengono importate dall'estero, dalla Germania, ma anche dagli Stati Uniti, quindi fare un prodotto locale utilizzando materie prime locali è ancora un valore aggiunto. Sì, è anche molto difficile, perché giustamente, come hai detto tu, la quantità di prodotto sia a livello dell'orzo che di luppolo è ancora molto bassa. Ovviamente sul luppolo si sta lavorando molto e anche molto bene, però i volumi necessari per supportare l'intera filiera sono sicuramente superiori. Ecco, questo è il problema di un prodotto birra DOP Abruzzo più che altro, perché non riusciamo, ma questo non solo noi, non è una cosa diffusa, a coprire tutto quanto, anche se ci sono delle bellissime esperienze. Il progetto di Atri, di Babilop, che sarà presente anche durante il birra di Abruzzo, è molto interessante, è molto sviluppato, ci sono anche, addirittura c'è l'Università di Teramo che collabora con un altro birrificio per sviluppare, hanno sviluppato un lievito, quindi, tanto è vero che siamo proprio a Bruxensis, quindi, diciamo, si sta lavorando tanto, c'è ancora molto molto da fare, sicuramente. Vincenzo Dincecco, diceva lei nel corso della conferenza stampa di presentazione, abbiamo visto alcune immagini, che con questo festival l'Abruzzo si mette alla pari con tante altre regioni italiane, proprio perché c'è un, come dire, un tessuto molto vivace, circa 50 birrifici che operano sul territorio e andrà a crescere questo numero sicuramente in futuro. Sì, siamo all'inizio, la regione con questa norma ha fatto una cornice, adesso all'interno di questa cornice dobbiamo mettere i contenuti, dobbiamo supportare l'attività di questi birrifici e lo facciamo sia attraverso questo evento, prendendo spunto da questo evento che sarà itinerante, sia dando strumenti, creando un disciplinare, creando anche un marchio e un portale dei birrifici ebruzzesi e creando una rete che sia foriera di risultati e partendo da questo evento e da questa norma, l'idea è chiaramente lavorare e collaborare tutti insieme anche con gli altri movimenti che intorno alla birra, la birra agricola artigianale hanno lavorato in questi anni, faccio ad esempio di Fermenti che è un grande evento che all'estate a Pescara comunque porta tante persone sul nostro territorio e ad esempio dalla collaborazione di tante sigle, di tanto lavoro con la cornice della regione dobbiamo creare un sistema, una rete che possa, come dire, anche operare nel sorco di quello che magari all'inizio è stato il Vinitaly, così come è stata, come Cantini Aperti con una logica territoriale abruzzese e quindi anche noi dobbiamo entrare in quest'ottica, ci vorrà qualche anno, siamo solo all'inizio ma dobbiamo supportare questo processo. Molto bene, Maria Assunta Iommi, dicevamo un prodotto, la birra che piace molto ai giovani, quindi voi avete coinvolto in questa iniziativa, a questo evento anche i giovani, in che modo e perché soprattutto, che messaggio si può lanciare? Allora, il coinvolgimento dei giovani è importante e noi li abbiamo coinvolti pure nell'ottica di lanciare un messaggio alle giovani generazioni del bere, diciamo, consapevole, consapevole in maniera responsabile e di qualità e quindi è un messaggio, diciamo, che per questo abbiamo coinvolto anche l'Istituto De Cecco e proprio, diciamo, su questa scia è importante far capire ai giovani oggi più che mai, visti, diciamo, gli episodi che si leggono nella cronaca sull'abuso, diciamo, di queste sostanze alcoliche, specialmente, diciamo, nei weekend, eccetera, lanciare un messaggio per far capire che approcciare ad una sostanza alcolica si deve fare con moderazione e rispettando le regole, quindi evitando, eventualmente, di mettersi alla guida dopo aver magari bevuto un bicchiere in più, insomma, tante accortezze che aiutano a salvare la vita a se stessi, ma soprattutto agli altri. Carlo Paolini, quando si parla di birra, l'immaginario ci porta subito pizza e birra, ma invece non è proprio così, la birra si accosta benissimo a tante pietanze, a tanti piatti anche di alta cucina. Sì, anche questo è molto vero, anzi, calcolando che le quantità di birre che esistono sul mercato, perché le birre si dividono in stili e gli stili sono veramente tantissimi e, essendo una ricetta, la ricetta può essere governata dal birraio che alla fine diventa quasi uno chef della birra e per abbinarlo al cibo più corretto, per esaltare il cibo e la birra stessa. Obiettivamente non c'è un limite all'abbinamento con il cibo e poi noi italiani, ecco i motivi per cui diciamo in Italia stiamo avendo uno sviluppo molto importante e anche noi abruzzesi è molto evidente, più che altro perché noi siamo bravi a conoscere le materie prime, conosciamo i sapori, una delle battute più semplici che spesso si ricordano è che i degustatori fuori dall'Italia quando si parla di agrumato parlano solo di agrumato, a un italiano si chiederà ma sì, ma che tipo di agrumato? Noi conosciamo grazie a tutti i nostri diversi cibi, alla nostra biodiversità abbiamo un range di possibilità, di conoscenze che non ha nessuno ed è per questo che siamo sempre più forti in tutto il mondo per la qualità dei nostri prodotti. Vincenzo Dincecco, siamo ormai alle battute finali in un telegramma, avete organizzato un grande evento il 10 e l'11 novembre prossimo al Palabecci del Marina di Pescara, sinteticamente il programma riusciamo a dare qualche appuntamento? Sì, si parte il venerdì la mattina con l'apertura dell'evento, poi ci sarà un convegno dove parteciperà il direttore del dipartimento agricoltura della regione Abruzzo, parteciperò io, parteciperanno alcuni colleghi consiglieri regionali, anche un Birrai, un Carlo Palini e l'istituto De Cecco, poi ci saranno degli show cooking durante la giornata, sia del venerdì che del sabato, ci sarà la possibilità appunto di degustare, ci saranno dei track all'esterno per poter mangiare e la sera, sia di venerdì che di sabato, ci saranno anche degli eventi musicali con due gruppi locali che richiamano molto pubblico molti giovani e chiaramente aggiungo anche che ci sarà la possibilità magari anche di esprimersi su quello che potrebbe essere il logo che utilizzeremo per caratterizzare la birra abruzzese, noi ci auguriamo una grande e forte presenza, siamo convinti che questo accadrà perché chiaramente è la prima edizione ma c'è tanto entusiasmo intorno a questo evento e tanto ce ne sarà se riusciremo a lavorare bene in questa prima edizione e per le future edizioni. Maria Assunta Iommi, organizzare questo evento ha comportato grande impegno e grande partecipazione da parte di tutti. Certo, è importante perché è stato un gioco di squadra, c'è stata molta sinergia con le istituzioni regionali e con la nostra azienda regionale, quindi sono tutti a lavoro, con entusiasmo per portare a casa un risultato importante per gli abruzzesi, per i produttori delle birre e per la valorizzazione del prodotto, questo è un pochetto quello che è lo scopo nostro e approfitto di questa occasione per dire che ci sarà anche una fiera internazionale del Tartufo il primo, il 2 e il 3 dicembre all'Aquila, a Piazza del Castello, questo lo dico perché, ripeto, è bello lavorare in sinergia e fare squadra su tutti quelli che sono i prodotti perché se siamo tutti insieme, uniti, l'Abruzzo andrà sempre più su. Carlo Paolini, in un telegramma un'ottima birra da cosa si riconosce? Ma una domanda difficilissima, sicuramente per il mio gusto personale dalla voglia di bere un secondo sorso. Ok, un'ottima risposta, io ringrazio Carlo Paolini, responsabile Abruzzo e Molusa dell'Union birra e birra tester, Vincenzo Dincecco, caurucco della Lega in Consiglio regionale e infine Maria Assunta Iommi, vicepresidente dell'Arab, e ringraziovi da casa per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni. Grazie. Grazie. Grazie.